Carissimi fratelli e sorelle, eccoci nuovamente al programma, la parola che conta. E la parola che conta che oggi vediamo è la parola gloria. Lo vedremo dopo la sigla iniziale. Eccoci, cari fratelli e sorelle, sapete che la parola gloria nella Bibbia appare ben 466 volte. Quindi la parola gloria è una parola che conta, una parola che può toccare e cambiare le nostre vite. Ci sarebbero stati altri glorioso, gloriare gloria e ce n'erano troppi per poter rimettere tutti. Se avete voglia andate a cercarlo. Comunque la parola gloria appare 466 volte. Prima di iniziare a vedere i 5 versetti consueti di questa parola, voglio definire con voi un attimo la parola gloria proprio. Nel sito Catopedia, gloria, Bibbia, viene così spiegata. Il termine dell'Antico Testamento che esprime il concetto di gloria è kavod. Tale termine implica l'idea di peso. Il peso di un essere nell'esistenza definisce la sua importanza, il rispetto che ispira la sua gloria. Per l'ebraico, a differenza del greco e nelle lingue moderne, la storia non indica tanto la fama quanto il valore reale stimato dal suo peso. Cioè, Dio è kadosh, Dio è il santo, noi lo diciamo a messa, santo, santo, santo. Ok, Dio è santo in questo mondo spirituale, è puro spirito Dio, e la sua trascendenza si manifesta nell'immanenza, cioè nella nostra vita, con un peso. La sua gloria, la kadosh, la santità diventa un peso, una presenza, una kavod. Quindi, Dio si può pesare, cioè, quando dici che dà il giusto peso alle cose, appunto, ogni cosa ha un peso, ha una gloria nella vita. Può avere poca gloria, tanta gloria. Ecco che la kadosh di Dio, noi riusciamo a comprenderla in base al peso che manifesta, in base alla sua kavod, la sua manifestazione. Dice ancora in catopedia, kavod, riferito Dio, non ne indica quindi l'essenza, perché è kadosh, ma il modo di manifestarsi in tutto il suo splendore. E' lui stesso che si dà a conoscere in tutta la sua gloria. E' significativa, in tal senso, la frequenza con cui kavod accompagna anche termini che indicano il vedere e l'apparire. Cioè, Dio che non si vede, si è manifestato attraverso che cosa? La creazione. La creazione ci fa vedere la gloria di Dio. La creazione è già la kavod, è già un qualcosa che manifesta la kadosh di Dio. Si fa vedere attraverso la creazione e si fa vedere attraverso delle manifestazioni. La madonna che appare a Međugorje è nient'altro che la kadosh di Dio che si manifesta attraverso questo peso. E ha un grande peso l'apparizione, le apparizioni di Međugorje. Hanno un peso significativo molto grande nella vita. Hanno avuto e hanno ancora di migliaia e migliaia di persone. Hanno toccato. Quindi vedete che la kadosh, questo che è invisibile, si manifesta nel visibile attraverso la gloria che è questa kavod. Allora, una volta capito questo termine gloria kavod, vediamo cinque termini nella Bibbia. 1. La potente gloria di Dio contro il nemico. Esodo 14,4 Io renderò ostinato il cuore del faraone e gli inseguirò, ed egli li inseguirà. E io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito. Così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Qui Dio sta dicendo già a Mosè, gli ha detto, guarda che tanto adesso che ve ne andrete, il faraone vi inseguirà, vi inseguirà. Ma tu non ti preoccupare perché io manifesterò la mia gloria con il faraone. Cioè io Dio mi manifesterò e loro lo vedranno. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Cioè Dio dice mi manifesterò in modo glorioso, il mare aperto e poi il fatto che il mare si chiuderà. Ecco che il mare manifesta la gloria di Dio. Cioè fa manifestare la santità di Dio attraverso questa manifestazione che farà fuori il nemico e salverà il suo popolo. La potente gloria di Dio contro il nemico. Quando noi camminiamo con Dio, la gloria di Dio si manifesta per difenderci dal mare. Due, il luogo della manifestazione della gloria di Dio. Esodo 40, versetti dal 33 al 35. Infine resse il recinto intorno alla dimora e all'altare emise la cortina alla porta del recinto. Così Mosè terminò l'opera. Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poteva entrare nella terra del convegno perché la nube sostava su di essa e la gloria di Dio, la gloria del Signore, riempiva la dimora. Meraviglioso. Mosè prepara questa tenda del convegno, luogo nella quale si manifesterà la gloria di Dio. In questo caso addirittura era così pesante, presente Dio, che Mosè non riusciva ad andarci. Cari fratelli e sorelle, ci sono alcune chiese nelle quali quando tu entri senti questa gloria, questa presenza di Dio. Questo è il peso, è questa cavode di Dio che c'è in quel luogo e in quella chiesa. Alcune volte, ad esempio quando noi ci siamo trovati a pregare, a un certo punto abbiamo sentito la presenza di Dio e c'è stata una volta che non siamo riusciti ad andare avanti. Siamo rimasti quasi una decina di minuti fermi lì in adorazione e si sentiva la gloria di Dio. Ricordati, fratello e sorella, che anche tu sei questa tenda del convegno. Quando lodi, ringrazi, benedici il Signore, la sua gloria, la sua cavode può manifestarsi nella tua vita. Punto 3. La vanità e la fragilità della gloria umana. Sì, dice il Salmo 49, versetti 17-18. Non temere se un uomo arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa. Quando muore, infatti, non porta nulla, né scende con lui la sua gloria. Cioè, ci sono persone che manifestano la loro gloria dicendo o soldi, o casa, o macchine, o io sono io. E la Bibbia dice, guarda che la gloria dell'uomo è niente, schifezza. E nulla, se la gloria dell'uomo non è Dio, ma sono i soldi, ma sono altre cose, quindi idoli, dice, è niente lo stesso. Quando muore, non porta con sé nulla. Questa sua gloria non va con lui. Non gli servirà a niente. Quindi, attenzione alla vanità, alla fragilità delle cose umane che sembrano gloriose, perché, come dice, tutto passa, resterà solo la parola di Dio. Punto 4. Gesù manifesta la gloria di Dio con segni prodigi e miracoli. Giovanni, capitolo 2, versetto 11, dice Siamo nel primo di sette miracoli, dei sette segni raccontati nel Vangelo di Giovanni, quindi alle nozze di Cana, e dice questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i discepoli credettero. Quindi, caro fratello, cara sorella, ogni miracolo, segno, prodigio di Dio manifesta la gloria di Dio. E mentre noi leggiamo quel segno glorioso, perché è Dio che si manifesta, noi possiamo credere ancora di più in Dio. Egli manifestò la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui, e fu l'inizio dei segni. Se noi abbiamo Gesù dalla nostra parte, Dio compirà, attraverso Gesù, attraverso la potenza dello Spirito Santo, dei segni che manifesteranno la gloria di Dio nella nostra vita. Punto 5. Impariamo a dare gloria a Dio per sperimentarla. Apocalisse 14, versetti 6 e 7. Vedi un altro angelo che, volando nell'alto dei cieli, rencava un Vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popola. Egli diceva a gran voce, temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le sorgenti delle acque. Questo angelo, cari fratelli e sorelle, reca appunto la lieta novella. C'è la possibilità che tutti possano salvarsi, ma perché le persone possano essere salvate, devono, dice, temete Dio e dategli gloria, perché c'è il momento del suo giudizio. Quindi mentre noi temiamo Dio e diamo gloria, crediamo nella sua misericordia e non sperimenteremo il giudizio. Adorate quindi colui che ha fatto il cielo e la terra. Ed ecco che durante la messa noi diamo gloria a Dio, con il santo, ma anche con il gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra a noi, agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. Impariamo a cantare il gloria più volte nella nostra vita ed ecco che così il Signore si manifesterà con potenza. Il Signore manifesterà Dio che è santo, manifesterà tutta la sua santità e il suo amore con una cavoda, con un peso. Vedremo, sperimenteremo la gloria di Dio. Quindi dai gloria a Dio, non dare più gloria alle cose umane, perché la gloria di Dio è quella che manifesta Dio e inizieranno dei segni gloriosi nella tua vita e tu lo sperimenterai e tu lo crederai. Gloria è una parola che conta. Falla contare nella tua vita fino alla prossima parola che conta. Grazie a tutti.